Benvenuti al webinar di Fineco, dedicato al risk management, in particolare al posizionamento degli stop loss e a come limitare le perdite. Io sono Alberto Bettineschi, all'interno di Banca Fineco lavoro come sales manager all'interno della unit International Project. Prima di partire con il webinar, volevo lanciarvi un piccolo sondaggio per conoscerci sicuramente meglio, per testare un attimino anche il livello di conoscenza. Per quanto riguarda gli ordini automatici, il sondaggio consisterà in una domanda, quindi utilizzi gli ordini automatici, avete tre possibili risposte, sì li utilizzo sempre, sì ma solo a volte, no ma vorrei saperne di più. Lancio il web, lancio il sondaggio e tra qualche istante lo riceverete. Intanto nel webinar di oggi andremo a vedere come posizionare gli stop loss e limitare le perdite, in particolar modo vedremo che cos'è lo stop loss, quindi questo strumento di gestione del rischio molto molto importante, le diverse tipologie di stop loss, quindi monetario in percentuali di livello, perdite teoriche reali, quindi la psicologia delle perdite e vedremo anche la sottile differenza che esiste tra mediare e costruire una posizione. intanto che attendiamo l'esito del sondaggio vi ricordo come sempre che dal logo di Fineco avete la possibilità di abilitarvi ad una serie di servizi, dalla sezione il mio conto, gestione servizi e selezionando appunto trading investimento abbiamo tutta una serie di servizi molto interessanti per la mia operatività di trading, quindi ci possiamo abilitare all'informativa prezzi del mercato USA, al servizio di marginazione, quindi per tradare con la leva finanziaria ad esempio i titoli azionari, abilitazioni in derivati, qualora volessimo tradare i CFD certificati a leva piuttosto che le knockout, abilitazioni in future semi e quello che mi preve sottolinearvi è sicuramente la possibilità di abilitarvi al portafoglio remunerato, una volta abilitati datelo ok al prestito titoli e potreste ricevere fine un rendimento lordo del 7% ovviamente su alcuni titoli. Ora vediamo l'esito del sondaggio e abbiamo un 17% che li utilizza sempre, un 31% sì ma solo a volte e una buona parte, 50% non vorrei saperne di più. Quindi addentriamoci nel webinar, ho preparato delle slide per fare un po' di teorie, per vederne il dettaglio in cosa consistono questi strumenti del rischio. Eccoci qua, siamo in modalità di presentazione quindi partiamo dallo stop loss, che cos'è lo stop loss? Sostanzialmente lo stop loss è un ordine automatico impostato dai traders, rappresenta la perdita massima che si è disposti a sopportare, lo possiamo impostare in fase di apertura della posizione o successivamente e viene impostato in base a diversi fattori, monetario, percentuale e di livello. Ovviamente se siamo in fase iniziale probabilmente utilizzeremo uno stop loss monetario, quindi quando andiamo a comprare un determinato asset, diciamo ok, ho comprato un titolo azionario, il massimo che sono disposto a perdere è 50-100 euro, in percentuale è già sicuramente più avanzato, più dai gestori e poi di livello insomma per i trader sicuramente più avanzati, dove sostanzialmente se andiamo a operare in prossimità di supporti e resistenze è molto importante individuare questi livelli di prezzo per posizionare degli stop loss su livelli di prezzo assolutamente molto molto interessanti e con una logica dietro. Per quanto riguarda il take profit, il take profit è sostanzialmente un ordine automatico sempre impostato dai traders, rappresenta il guadagno che si vuole realizzare su quella posizione, lo possiamo ovviamente impostare allo stesso modo dello stop loss sia in fase di apertura della posizione ma anche successivamente e appunto come lo stop loss può essere impostato in base a diversi fattori che sono fattore monetario in percentuale e di livello. Quindi stop loss e take profit che cosa sono? Sono sostanzialmente due strumenti che abbiamo di gestione del rischio, di risk management e money management, lo stop loss è un ordine a mercato che va a definire il mio massimo livello di rischio, quindi la massima perdita potenziale che sono disposto a subire per ogni singola operazione, per ogni singolo trade, diversamente il take profit è il mio obiettivo di prezzo, quindi dove penso possa andare al mercato e una volta che il mercato raggiunge quel livello di prezzo voglio chiudere la mia posizione perché voglio incassare il profitto in essa. Altro strumento di gestione del rischio molto molto interessante è sicuramente il training stop. Il training stop che cos'è? È sostanzialmente un ordine automatico intelligente che viene impostato appunto dai traders e si parla di un ordine dinamico, quindi se sullo stop loss e il take profit facciamo riferimento a un ordine statico, per quanto riguarda il training stop è sicuramente un ordine dinamico, non rappresenta né il guadagno né la perdita che si vuole realizzare su quella singola posizione, ma il delta massimo oltre il quale si desidera chiudere la posizione. Allo stesso modo lo possiamo impostare in fase di apertura della posizione o successivamente e prende in considerazione l'ultimo massimo minimo relativo raggiunto dal titolo e va a controllare un range di scostamento massimo impostato dai trader. Quindi sostanzialmente quando parliamo di training stop, cioè ipotizziamo di dire ok voglio mettere un training stop di 50 centesimi su un'azione, che cosa sto dicendo? Si intende dire che si vuole mantenere una certa posizione sul mercato fino a quando questa non perda 0,50 centesimi dall'ultimo massimo raggiunto. Quindi ipotizziamo di acquistare un titolo a 20,50 euro e ci poniamo la regola di vendere se il prezzo quota 20, cioè se perde 50 centesimi di euro. Quindi se il titolo scende a 20 chiudiamo la posizione. Diversamente se il prezzo sale, quindi ipotizziamo fino a 20,80 euro e poi scende, il nuovo valore a cui andrò a vendere non sarà di 20 euro ma di 20,30 euro. Infatti l'ultimo massimo raggiunto diventa il valore di riferimento da cui calcolare il livello di vendita dello stop loss. Io quello che consiglio, io non lo metto mai in fase di apertura della posizione training stop, ma lo metto quando una posizione che si è mossa chiaramente in direzionalità con la mia previsione, quindi una posizione che ho in profitto e da quel punto di vista per bloccare i profitti gli posso dire ok, magari ho comprato un titolo a 50, il titolo sta a 100, quando raggiunge 100 metto un training stop da 10 euro. Quindi cosa vuol dire? Che se il titolo passa da 100 a 90 mi verrà chiusa la posizione e io ovviamente ho aperto la posizione a 50 e ho fatto un bel guadagno fino a 90. Diversamente se il titolo ipotizziamo sale a 110, il training stop segue dinamicamente le performance del prezzo portandosi a sogli a 100. Vediamo se c'è qualche domanda per quanto riguarda training stop, training stop, stop loss e take profit. Ok, mi sembra tutto chiaro. C'è una domanda, sono gratuiti? Assolutamente sì, sono tutti gratuiti, quindi avete la possibilità di gestire la posizione senza alcun costo. Il mio consiglio è quello sicuramente di mettere lo stop loss se facciamo trading, il take profit e il training stop li possiamo mettere anche in un secondo momento. Poi andiamo a vedere qualche esempio, andiamo a vedere stop loss e take profit monetari, quindi ipotizziamo di comprare 100 azioni di alfa SPA 10 euro per azione. Il totale investimento che cos'è dato? Il controvalore della mia operazione cos'è dato? Dal numero di azioni che vado a comprare per il prezzo medio di carico, quindi con procentazione 10 euro avrò negoziato un controvalore di 1000 euro. Ipotizziamo che la perdita massima che sono disposto a subire è quella di 20 euro, quindi per il livello di stop loss che cosa devo fare? 20 euro diviso il numero di azioni 100 viene 20 centesimi per azioni, quindi dove andrò a posizionare lo stop loss? In area 9,80 euro. Diversamente, come dicevo prima, il take profit è il mio obiettivo di prezzo, quindi il guadagno che vorrei realizzare è sui 60 euro. Il livello di take profit ovviamente è dato dal profitto che voglio fare fratto il numero di azioni uguale a 60 centesimi e di conseguenza il take profit sarà posizionato in area 10,60 euro, quindi 10 euro più 0,60 centesimi. Come vediamo in questo caso abbiamo un rapporto rischio rendimento 1 a 3. Quello che vi consiglio non è che c'è una regola definitiva per quanto concerne il rischio e il rendimento, però è chiaro che almeno un rapporto rischio di rendimento di 1 a 2, 1 a 3 è un qualcosa di altamente auspicabile, perché ovviamente se io vado a rischiare tanto per guadagnare poco è un'operazione in sé che non ha molto senso. Adesso andiamo a vedere perdite e guadagno in percentuali che sicuramente è uno step successivo, quindi un'operatività più avanzata. Allo stesso modo ipotizziamo di comprare migliazioni di beta SPA 20 euro per azione. Totale investimento, quindi controvalore della mia operazione è di 20.000 euro, dato dal numero di azioni per il prezzo medio di carico. La perdita massima che sono disposto ad accettare è l'1% dell'investimento, quindi l'1% dell'investimento di 20 euro che cos'è? 20 centesimi, qua trovate la formuletta. Ovviamente se non avete dimestichezza con questi calcoli che sono molto semplici potete farvi anche un Excel e quindi avrà uno stop loss posizionato in area di 19,80 euro. Allo stesso modo il guadagno che vorrei realizzare è più o meno il 3% dell'investimento, quindi la formuletta è 1 più 0,03 per 20 euro che rappresenta il mio prezzo medio di carico e quindi avrà posizionato un take profit in area 20,60 euro. Come vediamo prima, rapporto rischio di rendimento 1 a 3. Infine perdite i guadagni sui livelli di prezzo, questo è sicuramente per i trader più avanzati, quindi in fase iniziale se dobbiamo prendere dimestichezza e quindi magari prima utilizziamo stop loss magari monetari piuttosto che stop loss in percentuale, una volta che abbiamo la nostra strategia operativa, che abbiamo un piano di trading dove mi raccomando dobbiamo attenerci al nostro piano di trading, possiamo mettere stop loss e take profit in area di prezzo dove ci possiamo aspettare insomma una certa reazione da parte del mercato. Quindi se ipotizzassimo di comprare 100 azioni di Tesla in area di supporto a 140 dollari, quindi più o meno quest'area di supporto che tra l'altro insomma vediamo questa trend line rialzista che insomma che unisce i minimi dal 2020 fino al 2024 e lo stop loss dove lo andiamo a metterlo, lo andiamo a mettere poco più sotto, quindi potremmo metterlo in area 138 dollari. Il take profit invece dove lo possiamo andare a mettere? Lo possiamo metterne i pressi della prossima resistenza dinamica in area 220 dollari, quindi che vedete insomma sostanzialmente vediamo questa trend line ribassista, perché insomma nell'ultimo periodo il grafico è sicuramente, l'impostazione di Tesla è sicuramente short, quindi un primo target price potrebbe essere definito come il test di questa trend line ribassista. Quindi perdita massima uguale a 2 dollari per 100 azioni, quindi 200 dollari, mentre il guadagno potenziale potrebbe essere definito come 80 dollari per 100 azioni, quindi 8000 dollari. Quindi come vediamo in questo caso il rapporto rischio rendimento molto molto interessante. Quando andiamo a fare operazioni di trendi mi raccomando il rapporto risk reward deve essere dalla nostra parte. Perdite guadagni su livelli di prezzo? Ancora, quindi vediamo in questo caso dove abbiamo posizionato lo stop loss e dove abbiamo messo il take profit, quindi in questo caso abbiamo un rapporto risk reward di 1,40. Tratteggiato in rosso vediamo lo stop loss come limite massimo alle nostre perdite, quindi se siamo entrati long e il mercato tocca la soglia di stop loss la posizione verrà chiusa e io ovviamente incasserò la perdita in essere. Diversamente se il mercato si dovesse muovere con la mia previsione e dovesse andare a target, ovviamente incasserei 8000 dollari e lo vedete evidenziato, tratteggiato in verde, il nostro livello di take profit. Quindi adesso poi andremo sul grafico a fare sicuramente qualche esempio. Andiamo a vedere andiamo a vedere intanto la chat e il coinale. Ok, tutto chiaro. Training stop l'abbiamo spiegato, è tutto chiaro, volete che lo rispiego? Ok, direi tutto chiaro. Ottimo, poi faremo sicuramente qualche esempio. Si deve considerare anche un range temporale per il take profit, io direi di andare più sui livelli di prezzo. Sui livelli di prezzo poi dipende dalla tua strategia, ci sono delle strategie che si basano anche sul tempo, quindi in quel caso sì, ma sicuramente non è la tematica di questo webinar. Poi ovviamente come dicevo anche nei webinar precedenti, bisogna trovare un po' la strategia che fa il caso nostro. Ok, vediamo se è tutto chiaro, perfetto. Ora, altra cosa molto molto importante prima di procedere con gli esempi è la psicologia per quanto riguarda le perdite, che è un altro argomento molto molto importante. Allora, è chiaro che sarebbe bello che tutte le nostre operazioni andassero a target, ma purtroppo non è così. Quindi dobbiamo innanzitutto capire che le perdite fanno assolutamente parte del trading e il modo in cui andiamo a gestire le perdite può influenzare in modo molto molto importante il nostro successo a lungo termine su questa attività, che parliamoci chiaro è un'attività molto molto bella, però è anche un'attività abbastanza complessa. Quindi, come vi dicevo prima, le perdite fanno sicuramente parte dell'attività di trading, nessuno emune alle perdite, anche i migliori trader, i vincitori dei campionati mondiali prendono delle perdite dalla loro operatività. È essenziale accettare questa realtà e capire che una perdita fa sostanzialmente parte del processo di apprendimento dell'attività di trading. Di conseguenza ci deve essere una gestione emotiva adeguata, perché quando prendiamo delle perdite sostanzialmente potremmo reagire in modo molto impulsivo e prendere delle decisioni rischiosi non ponderate, dovremmo evitare il cosiddetto trading revenge, che questo è sostanzialmente un comportamento comune a molti trader. Dopo aver subito una perdita cerchiamo di recuperarla immediatamente facendo operazione ad alto rischio, non attenendoci più al nostro trading plan. E questo che cosa può comportare? Sostanzialmente può comportare una spirale di perdite sempre più grandi, quindi è importante evitarla mantenendo disciplina e controllo emotivo. Avere un piano di trading chiaro e ben definito per l'entrata e l'uscita delle operazioni e rispettare questo piano di trading. Ovviamente la gestione del rischio è una componente fondamentale, fondamentale perché quante volte abbiamo sentito che bisogna tagliare le perdite e lasciare correre i profitti, quindi di conseguenza è molto meglio prendere tante perdite piccole piuttosto che fare un'operazione, con un'operazione mi vado a bruciare l'intero equity, quindi l'intero capitale del mio conto e poi dobbiamo anche mantenere una prospettiva a lungo termine. Cioè quello che dico sempre è il trading non è uno sprint ma è una maratona, le perdite a breve termine non dovrebbero distogliere dal raggiungimento degli obiettivi a lungo termine. Quindi ora andiamo a vedere un po' sulla fine EcoX, vediamo se c'è qualche opportunità di trading, analizziamo qualche chart e vediamo insomma come avviene tecnicamente la gestione sostanzialmente della posizione con l'inserimento di stop loss e take profit. Allora, magari prima di andare sulla fine EcoX vi faccio vedere dal portafoglio come si gestisce la posizione a livello di stop loss e take profit. Vediamo in questo caso che abbiamo due posizioni in essere, una su intesa San Paolo, azione marginazione, valuta euro, quantità meno 120, quindi siamo short di 120 euro, quindi crediamo che intesa San Paolo da qui a qualche giorno, qualche settimana, insomma in base all'analisi che ha fatto possa scendere col prezzo. Questo è il nostro prezzo medio di carico, prezzo di mercato, siccome è un'operazione in leva vediamo il controvalore dell'operazione e il margine impiegato per l'operazione stessa. Ovviamente nell'ultima colonna vediamo la variazione in percentuale e la variazione monetaria in termini assoluti. Ora su Enel abbiamo questa posizione azione ordinaria quindi senza leverage, quindi senza concetto di margine leva. Vediamo che abbiamo un prezzo medio di carico di 6,83 e il prezzo di mercato è 6,72,8. Quello che possiamo fare per gestire al meglio la nostra posizione qual è? Dare un limite massimo alle nostre perdite, quindi come si fa? Clicco qui su uno spazio qualsiasi di Enel, si apre questo sottomenu dove sostanzialmente ho la possibilità di proteggere l'intera posizione, clicco su proteggi posizione e ho la possibilità di mettere uno stop loss a livello di importo monetario o col prezzo. Se lo metto a livello di importo monetario posso dire ok per questa singola operazione il mio massimo livello di rischio sono 10 euro più la perdita che sto facendo adesso quindi parliamo di 11,21 euro e qua avviene il prezzo dello stop loss o alternativamente lo posso specificare come livello di prezzo quindi posso dire ok quando Enel sostanzialmente ha raggiunto non lo so scende a 5,85 vendimi 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 quest'azione perché questo è la massima perdita che sono disposto a subire. Inserisco il mio pin e clicco su continua. Ok adesso diamo un refresh e come vediamo vediamo questo scudo che sta a significare appunto che abbiamo protetto la posizione. Lo stesso discorso per il take profit quindi qualora volessimo impostare un take profit monetario decidiamo l'importo adatto per noi quindi ipotizziamo se il mercato ha fatto 30 euro nella mia direzione vammi a chiudere la posizione in essere il take profit è posizionato in area 9,23 e allo stesso modo viene traslato poi sul prezzo ma lo posso mettere anche sul livello di prezzo quindi posso gli posso anche dire ok se Enel raggiunge 7,50 7,50 euro chiudimi la mia posizione perché intendo incassare il profitto in essere. Ovviamente in questo caso non ha molto senso mettere uno stop loss a sette ore e mezzo perché ovviamente vediamo che quello che guadagno è di meno di quello che perdo però questo è giusto per farvi un esempio. Ok intanto prima di andare sui chart vediamo un attimo la chat. Allora funziona durante il pre post mercato funziona nelle sessioni di mercato per quanto riguarda lo stop loss e il take profit e nel Q&A no no per quanto riguarda stop loss e take profit deve essere colpito nella main session del mercato eh ok? perfetto ora andiamo sulla Fineco X e vediamo qualche esempio insomma questa innanzitutto è la nostra insomma la nostra piattaforma molto molto avanzata la Fineco X totalmente gratuita piattaforma di ultima generazione in HTML5 dove abbiamo la possibilità ovviamente di tradare una vastità di asset finanziari quindi possiamo fare mercato listato derivati derivati OTC possiamo fare knockout quindi in base all'operatività insomma troviamo una vasta gamma di asset finanziari ora quella dell'analisi che avevamo fatto su Tesla era sicuramente un'analisi eh un'analisi di lungo periodo come vediamo qua il grafico è settimanale sostanzialmente abbiamo tracciato questa trend line realzista che unisce i minimi del 2020 eh inizio 2023 e sostanzialmente un minimo che aveva fatto qualche qualche temmeno di un mese fa era il 15 aprile come vediamo quest'area di prezzo è stata un'area molto sentita e da qua c'è stata un'accelerazione al rialzo del mercato ora se fossimo entrati più o meno su quest'area di prezzo perché comunque da qua ci potevamo aspettare un ritest della trend line quindi avremmo potuto mettere un ordine al limite lo stop dove lo vado dove lo vado ad inserire lo stop loss sotto il minimo precedente quindi mettiamo uno stop loss sotto questo minimo e come take profit potremmo andare a prendere come primo take profit questo diciamo questa resistenza sul breve periodo come lo vediamo qua il mercato ha tentato di sfondare è stato rigettato altro test è stato rigettato qua c'è stato il breakout di questa di questa area dopodiché altro test il mercato ha sbattuto contro la trend line ribassista insomma di insomma di medio periodo e quello che possiamo ipotizzare è che ancora adesso il mercato possa andare a ritestare più o meno questa trend line quindi dopo avere un primo target in quest'area di prezzo magari ipotizziamo di avere 50 pezzi di tesla di avere 50 pezzi di tesla per fare un money management accurato andrei a chiudere magari metà posizione su questo livello di prezzo e una metà posizione su questo livello di prezzo altra opportunità interessante vediamo magari qualche altro chart vediamo magari su stellantis insomma che abbiamo visto che ha rilasciato la trimestrale insomma c'è stata una correzione veramente molto molto importante partiamo magari prima dal grafico dal grafico mensile vediamo dal grafico mensile insomma vediamo per dal 2022 è partito una forte tendenza rialzista siamo andati a fare a fare i top in questo livello di prezzo più o meno in area 27 27 45 e da qua c'è stato uno storno interessante del mercato dove siamo siamo su un'area di supporto molto molto interessante perché quest'area di supporto prima era un'area di resistenza ovviamente una resistenza quando viene rotta diventa supporto e un supporto a sua volta quando quando viene rotto poi diventa resistenza proviamo a scendere di time frame quindi passiamo dal grafico mensile al grafico settimanale eccoci qua quindi sul grafico settimanale cosa vediamo vediamo un setup ancora molto interessante innanzitutto abbiamo inserito delle medie mobili abbiamo media mobile a 20 periodi quella gialla quindi media mobile che segue più da vicino le performance del prezzo media mobile a 50 periodi medio periodo che è quella rossa e la media mobile a 200 periodi ora mercato che cosa sta facendo che dopo questo questa discesa questo troppo importante si è appoggiato sulla media mobile a 50 periodi quindi in questo caso se io volessi ipotizzare un long potrei ipotizzare un long magari con un ordine al limiter per prenderlo a un livello di prezzo leggermente migliorativo e uno stop loss più conservativo sarebbe sotto questo minimo diversamente uno stop loss un pochino più aggressivo sarebbe sotto questo minimo ovviamente se lo metto sotto questo minimo è chiaro che la perdita sarebbe sicuramente più importante ora scendiamo ancora di time frame andiamo sul grafico giornaliero e vediamo sul grafico giornaliero se abbiamo qualche ulteriore conferma magari partiamo dall'ultimo dall'ultima struttura di mercato che ha dato vita a questo impulso a questo impulso rialzista e magari prenderei questo questo punto di minimo per tracciare per utilizzare i tracciamenti di fibonacci che insomma è un indicatore molto molto utilizzato che insomma ci dà delle aree di prezzo interessanti dove possiamo pensare che il mercato si possa comportare in una certa in un certo modo quindi possiamo possiamo ipotizzare certe reazioni del mercato ora prendiamo lo strumento disegna ritracciamenti di fibonacci partiamo da questo punto di minimo a questo punto di massimo quindi prendiamo questi due questi due swing point e tracciamo appunto fibonacci ora su fibonacci questo vediamo che non fitta perfettamente sul che non fitta perfettamente sul grafico però vediamo vediamo che siamo in una cosiddetta zona discount zona insomma zona sotto il 61 e 8 di fibonacci quindi potrebbe essere una zona molto molto interessante per acquistare quindi se volessimo acquistare in questo caso possiamo aprire direttamente il book di negoziazione di fineco quindi andiamo aprire il book prendiamo stellanti se possiamo farlo anche dalla fineco x però in questo caso andiamo a vedere direttamente dalla piattaforma il fineco ok andiamo su piazza affari apriamo il nostro book di negoziazione e apriamo anche la nostra fineco x e richiamiamo il book di negoziazione ok eccoci qua quindi in questo caso possiamo dire ok io voglio comprare diciamo che vogliamo comprare adesso 10 pezzi di stellantis con un ordine al limite magari ci mettiamo sul primo livello del book di negoziazione quindi andiamo ricordiamoci per quanto riguarda il book di negoziazione il bid ask price rappresentano le proposte di acquisto bid e le proposte di vendita per quanto riguarda l'ask e sostanzialmente l'ultima colonna rappresenta il numero di ordini quindi come leggere il book di negoziazione possiamo dire che nel primo livello del book di negoziazione ci sono tre ordini per acquistare 1.510 pezzi di stellanti a questo livello di prezzo 20 29 50 diversamente sul lux price ci sono tre ordini per vendere 1.374 pezzi di stellantis a 20 30 quindi ipotizziamo di voler comprare a questo livello di prezzo o perché vogliamo essere eseguiti subito operatività ordinaria e poi mettiamo dal nostro proteggi ordine scadenza oggi e dal proteggi ordine abbiamo la possibilità di inserire lo stop loss e take profit quindi cerchiamo di mettere uno stop loss molto vicino al prezzo attuale quindi io lo metterei in area 19 e 62 è molto importante mettere degli stop loss in livelli strategici di prezzo perché se lo metto ovviamente magari su questo spike il mercato molto probabilmente me lo andrà a colpire quindi tante volte basta stare un pochino più sotto perché ovviamente questi spike di prezzo magari vanno a sporcare questi livelli di conseguenza mi viene colpito lo stop quindi io direi di metterlo magari in aria magari mettiamola anche un po più sotto in area 19 50 più o meno e qua vediamo la perdita potenziale di 8 euro e come take profit cosa dove lo possiamo mettere take profit ma innanzitutto lo potrei mettere su questo livello di prezzo più o meno in area 21 94 22 dove coincide anche il 50 per cento di fibonacci da questo movimento oppure questa vediamo anche la media mobile a 20 periodi lo potrei mettere anche in prossimità della media mobile quindi questo poi dipende insomma della nostra operatività per semplicità lo mettiamo magari in area 22 e vediamo che in questo caso abbiamo ora abbiamo rispettato un rapporto rischi reward di 1 e 2 inseriamo il nostro pin e clicchiamo su compra conferma ordine messo sul mercato quindi già lo possiamo vedere sostanzialmente all'interno anche della fine co x quindi magari eccolo qua eccolo qua vediamo che abbiamo questo ordine pendente tra l'altro siamo stati appena eseguiti abbiamo il nostro livello di stop loss e il nostro livello di take profit quindi siamo tranquilli insomma che qualsiasi cosa accada nel mercato qua abbiamo il nostro salvagente che va a limitare le nostre perdite quindi la nostra perdita potenziale può essere di 8 euro e qua abbiamo inserito il nostro take profit come monitorare la posizione ovviamente ho anche il portafoglio all'interno della fine co x quindi se andassi qua all'interno vediamo che abbiamo il nostro portafoglio dove possiamo monitorare la posizione in essere come sta andando quindi il cosiddetto running pnl quindi il pnl attuale o alternativamente altra cosa che possiamo fare possiamo andare all'interno del portafoglio di fine co diamo un refresh e vediamo che abbiamo appena inserito un ordine su stellantis quantità 10 prezzo medio di carico 23 prezzo di mercato quindi leggermente a nostro favore contro valore dell'operazione e poi qua vediamo sostanzialmente la variazione in percentuale e la variazione monetaria tutto chiaro fino qua c'è qualche c'è qualche domanda particolare ok dove si legge lo stop loss su fine co x l'abbiamo visto direi che l'abbiamo visto assolutamente se riprendiamo il nostro il nostro layout trader ok c'è una domanda di gerardo molto interessante insomma l'altro giorno aveva uno stop loss su avio di 30 centi però è successo che nel giro di due minuti il prezzo ha perso e riguadagnato oltre 50 50 centesimi automaticamente ha chiuso la posizione poi però il titolo ha continuato a salire come posso evitare questa situazione allora innanzitutto io vi consiglio di utilizzare stop loss e take profit su mercati su titoli molto molto liquidi perché se prendiamo dei titoli liquidi è chiaro che sono degli ordini a mercato e di conseguenza verrà eseguito al primo prezzo disponibile quello che puoi fare che cos'è tu puoi mettere un ordine condizionato quindi puoi dire ok se il mercato ad esempio potenziamo adesso poi vedremo anche potremmo vedere anche nexi però riprendiamo magari stellantis andiamo sul grafico daily eccoci qua il grafico giornaliero noi possiamo dire anche che cosa abbiamo più o meno lo stop loss in quest'area e quindi li possiamo dire ok mettiamo un ordine di condizionato se il mercato va sotto questo minimo voglio inviare un ordine di vendita con una vendita limite a non lo so 19,60 o 19,70 in questo modo questo è un escamotage per evitare slippage per quanto riguarda lo stop loss chiaro che il problema degli ordini al limite sui titoli molti liquidi che potrebbero non essere eseguiti nel calcolo della perdita si deve tenere conto del peso delle commissioni assolutamente sì assolutamente sì la componente delle commissioni è molto molto importante quindi chiaro che se vado da pagare non lo so se guadagno 10 euro ma il piano commissionale è peggiore chiaro che devo trovare delle operazioni più vantaggiose ovviamente qua parliamo di titoli azionari se facciamo i CFD si paga solo lo spread di negoziazione questo tipo di operatività è consigliabile per titoli che sono in fase di ribasso anche lì ti devi costruire una strategia operativa un trading plan e applicarla io utilizzo molto medie mobili, utilizzo oscillatori utilizzo a volte le bande di bollinger, utilizzo anche degli indicatori volumetrici Fabrizio chiede per il riacchiesto guarda te lo faccio vedere direttamente in piattaforma allora tu che cosa puoi fare? tu puoi mettere anche degli ordini sostanzialmente degli ordini condizionati quindi ipotizziamo di mettere un ordine condizionato su Stellantis io che cosa vi voglio dire sostanzialmente? ok mi devi chiudere la posizione se il mercato raggiunge raggiunge non lo so 19 euro quindi io cosa posso dire? vado su Stellantis, apro il book di negoziazione quindi lo stop loss l'abbiamo visto, adesso stiamo vedendo come mettere magari un ordine condizionato quindi metto un ordine condizionato e dico se il prezzo è inferiore o uguale a 19 euro con scadenza un mese vendi in ordinaria 10 azioni che ho in portafoglio con un ordine al limite a un prezzo a un prezzo di non lo so 19 euro e 20 per via e in questo caso abbiamo messo un ordine pendente per chiudere la posizione ok? ok vediamo il Q&A potresti fare un esempio di training stops adesso ci arriviamo domanda di Gianni come ottenere la fascina, qual inserire lo stop loss e se riesci a spiegarmi meglio? allora il training stop come vi dicevo prima è uno stop loss dinamico che segue le performance del prezzo se il mercato si muove nella mia direzione ovviamente ha senso metterla se abbiamo una posizione fortemente in guadagno perché mettere all'inizio posizione secondo me ha poco senso però ipotizziamo in questo caso di mettere sempre su Stellantis andiamo su scusatemi non apriamo il book di negoziazione ma clicchiamo qua su una riga qualsiasi andiamo su proteggi posizione e andiamo su training stop eccolo qua qua che cosa vi posso dire? voglio mettere uno scostamento di un euro quindi cosa vuol dire? che se il titolo Stellantis adesso quota 20,29 scende a 19,29 mi va a chiudere la posizione in quanto questo è il mio massimo livello di rischio alternativamente se il mercato dovesse salire a 21,29 il training stop passerebbe da 19,29 a 20,29 se dovesse salire a 22,29 il training stop rivarrebbe sempre distanza un euro chiaro? quindi in quel caso si porterebbe in area a 21,29 ok perfetto andiamo a fare un'altra analisi magari adesso vi faccio vedere la motivazione di questo short molto molto veloce su intesa nonostante il grafico insomma l'impostazione è assolutamente a rialzo e vi sconsiglio assolutamente di operare contro trend si possono fare delle operazioni piccole ma se il main trend è sostanzialmente a rialzo io cercherei sempre di stare di stare col main trend principale però in questo caso che cosa abbiamo visto? un'operazione speculativa di breve abbiamo visto che dopo questa insomma dopo questa salita molto molto importante di intesa insomma vediamo che è salito per tutto il 2023 per tutto il 2024 se volessimo misurare la performance sostanzialmente dal 2024 abbiamo qua il righello quindi dallo strumento disegno abbiamo il righello che insomma se prendiamo da questo punto qua a fine 2023 vediamo che c'è stata una performance del 58% chiaramente anche il rialzo di tasse insomma delle banche centrali insomma per le banche tradizionali è stato un qualcosa di molto molto interessante di molto molto positivo ora che cosa vediamo? che il mercato è all'interno di quest'area di prezzo area di prezzo molto molto importante se vediamo nel passato qua nel 2015 vediamo come il mercato ha toccato questa area di prezzo c'è stato un ritracciamento molto marcato e ovviamente anche nel passato vediamo che qua insomma è stata un'area di compressione della volatilità anche qua agito molto bene la resistenza quindi è un'area di prezzo dove ci possiamo aspettare una certa reazione ora noi siamo andati short più o meno su questo livello di prezzo se dovessimo mettere uno stop loss lo metteremo in quest'area e diversamente come take profit magari andremo a prendere andremo a prendere questo minimo che coincide anche con questo massimo il primo take profit e se la posizione insomma dovesse essere in linea con la nostra previsione potenzialmente potremo mettere un altro take profit successivamente in quest'area di prezzo quindi in questo caso come fare ritorniamo su prendiamo intesa San Paolo eccola qua in questo caso vediamo che la posizione è stata protetta apriamo il nostro ticket di negoziazione vediamo che è un'operazione in marginazione è un'operazione in marginazione dove se apriamo i dettagli dove se espandiamo la riga sostanzialmente vediamo in tutti i dettagli di questa operazione quindi vediamo posizione short overnight margine è il 25% quindi se calcoliamo il 107 bloccato a margine è il 25% del controllore che sono andato a negoziare quindi abbiamo una leva 1.4 lo stop loss di Fineco è posizionato in area 4.03 quindi ovviamente io dovrò mettere uno stop loss più vicino al prezzo attuale non lo metterò in prossimità di quest'area di prezzo quindi andiamo ad aprire innanzitutto il book d'intesa San Paolo eccolo qua ce l'apriamo vediamo magari il book precedente e andiamo ad aprire la Fineco X quindi in questo caso anzi il book potevamo anche evitare di aprirlo vediamo dove mettere la protezione quindi potremmo metterla sopra questo box la protezione quindi poi potremmo mettere in area 3.70 e come primo target price magari andare a prendere i 3.24 quindi in questo caso come fare? ritorniamo sul portafoglio andiamo sul vediamo che la protezione è già protetta però ipotizziamo di ipotizziamo di voler cambiare il livello di stop loss e il livello di 3.4 quindi vado su sul prezzo quindi decidiamo di mettere uno stop loss in area 3.72 che è più o meno sopra quel box e un take profit più o meno in area 3.2 in questo caso abbiamo più o meno un rapporto rischio rendimento di 1 a 3 vediamo l'importo dello stop loss che è di 14 euro quindi se il mercato va a stop loss perdiamo 14 euro diversamente se il mercato va a take profit poi è un profitto di 47.94 al solito discorso andiamo a inserire il nostro più e clicchiamo su continue posizione inserita correttamente andiamo al monitor ordini possiamo andare anche dal monitor ordini per monitorare la posizione eccolo qua livello di stop loss e livello di take profit tutto chiaro fino a qua? ottimo terreno di stop abbiamo fatto un esempio allora c'è una domanda di Umberto per quanto riguarda il take profit dovrebbe essere più elevato dello stop loss allora Umberto calcola che se noi entriamo al rialzo quindi ipotizziamo di comprare un'azione a 10 lo stop loss che è una perdita ovviamente lo devo mettere al di sotto del prezzo di acquisto diversamente il take profit è se il mercato è nella mia direzione quindi acquisto a 10 stop loss a 8 take profit a 15 per darti un esempio quindi se sono long è chiaro che il livello di take profit è sempre sopra il livello di stop loss però se fossi short se sono short come su intesa è chiaro che il livello di take profit è sotto al livello di stop loss perché se io vendo il mio intento qual è di riacquistare a un prezzo più basso quindi ipotizziamo vendo a 10 per riacquistare a 7 quindi a 7 metto il mio take profit diversamente se il mercato mi viene contro a 11 metto il mio stop loss allora sulla fine cox per vedere allora innanzitutto gli ordini poi li vedete solo quando sono stati inseriti quindi vedete gli ordini al limite se volete vedere poi il dettaglio dell'operatività di dove avete messo gli ordini si può andare su eventi mostra ordini e li vedete qua e li vedete qua la stiamo implementando questa pagina questa funzionalità è sostanzialmente anche dal tasto ordine ci sarà la possibilità di seguire di fare drag and drop e sostanzialmente quindi di gestire le posizioni direttamente col grafico questo sicuramente sarà uno sviluppo che verrà fatto successivamente andiamo ad analizzare un altro chart prendiamo ad esempio prendiamo Coinbase prendiamo Coinbase eccolo qua Coinbase vi cancello i ritracciamenti di Fibonacci per il momento tiriamo un attimino giù allora che cosa vediamo Coinbase Coinbase titolo molto legato alle performance di Bitcoin nonostante nell'ultimo periodo insomma negli ultimi anni dopo il drop che ha avuto dalla sua quotazione perché se veniamo dal giorno di quotazione guardate Coinbase che drop ha fatto quindi è passato da un massimo da 429 è finito a fare un minimo più o meno sui 35 euro ha fatto un'area di accumulazione straordinaria un'area veramente molto molto importante di accumulazione quindi è andato a definire che cosa un box di compressione della volatilità che è esattamente questo che è esattamente questo il mercato che cosa ha fatto ha fatto breakout quindi rottura al rialzo di questo box di compressione della volatilità test ed è ripartito al rialzo ora scendiamo di time frame procediamo sul settimanale settimanale insomma che cosa vediamo sul settimanale vediamo che dopo questo importante impulso rialzista c'è stata una correzione anche salutare del mercato dove ci siamo appoggiati ci siamo appoggiati su quest'area di supporto area di supporto perché perché lo vediamo non tanto in questa fase ma in precedenza ha agito molto molto bene come livello di resistenza infatti il mercato cosa ha fatto ha fatto un downtrend è sceso è risalito è stato rigettato ha fatto un altro test e da lì è partito l'ultimo impulso l'impulso importante è ribassista scendiamo sul grafico giornaliero scusate mi deve prendere il giorno eccoci qua e ora vediamo insomma che siamo in prossimità insomma di questa di questa zona d'acquisto zona d'acquisto che potrebbe essere molto interessante ovviamente con la gestione del rischio perché mi raccomando se facciamo trading che è operatività veloce velocissima e di medio termine dobbiamo avere sempre uno stop loss per limitare le nostre perdite quindi questa potrebbe essere che cosa sicuramente un'area di acquisto ora che cosa possiamo decidere di fare in quest'area di prezzo allora ovviamente ovviamente quest'area di prezzo potrebbe essere anche bucata dal mercato quindi quindi che cosa potrebbe fare cioè noi compriamo questo livello di prezzo il mercato scende e qua c'è un'altra area di acquisto molto interessante perché vediamo resistenza ritracciamento il mercato cosa fa breakout di quest'area di prezzo ritest perché come vedete insomma supporti a resistenze sono validi perché il mercato li va a testare più volte all'interno del suo storico e di conseguenza ci potrebbe essere un altro ritest di quest'area di prezzo quindi io in questo caso cosa potrei fare potrei fare una costruzione della posizione quindi ipotizziamo di voler mettere 10.000 euro su coinbase però ovviamente non sono sicuro che questo livello di supporto possa reggere anche perché nel breve termine vediamo che c'è questa trend line insomma che agisce come resistenza dinamica quindi quello che potrei fare è fare la prima entry magari su questo livello di prezzo quindi ipotizziamo su 10.000 euro farei una prima entry di 5.000 euro su questo livello di prezzo se il mercato dovesse scendere potrei fare una seconda entry su questo livello di prezzo in modo tale da andare anche ad abbassare il prezzo medio di carico e avere un'operazione un'operazione per così dire sicuramente meno rischiosa piuttosto che mettere tutti i soldi su questo livello di prezzo questo è un concetto molto importante questo è un concetto molto importante perché tante volte si tende insomma si è convinti delle proprie si è convinti insomma di quello che si vede senza pensare che il mercato è assolutamente pronto a smentirci quindi onde evitare magari di perdere tutti i soldi su questo livello di prezzo magari facciamo delle entrate intelligenti quindi entriamo scaglionati un'altra potenziale entrate di prezzo potrebbe essere anche questa quindi se questi 10.000 euro li potremmo splittare in tre parti chiaro che faremo una prima entry più o meno in quest'area quindi su 200 una seconda entry più o meno dall'area che va da 190 a questo top di mercato quindi anche più sotto sui 180 volendo possiamo entrare anche su quest'area di prezzo o anche su quest'area di prezzo quindi dipende noi come insomma andiamo a splittare poi quelle che sono le nostre entry ora riprendiamo un attimo riprendiamo un attimo lo schema di questo webinar per vedere allora che cos'è lo stop loss l'abbiamo spiegato tipologie di stop loss monetario in percentuale l'abbiamo visto perdite teoriche reali la psicologia delle perdite l'abbiamo approfondita direi abbastanza bene e la differenza tra mediare e costruire quindi adesso abbiamo visto come costruire una posizione ma mediare una posizione che cosa significa? quindi mediare una posizione è un qualcosa insomma che si tende a fare è un qualcosa che si tende a fare se fatto con criterio è un qualcosa che può aver senso se fatto così in modo aggressivo e in modo poco ragionato potrebbe portare insomma degli effetti sicuramente indesiderati sostanzialmente in ambito trading mediare che cosa significa? mediare una strategia dove un trader modifica la sua posizione attuale acquistando vendendo ulteriori sites ulteriori lotti dipende o ulteriori contratti dipende insomma su quale asset class stiamo operando per cambiare il prezzo medio di carico di acquisto di vendita questo quando viene fatto viene ovviamente fatto quando quando il mercato va contro le aspettative del trader quindi quindi sostanzialmente viene utilizzata per correggere il prezzo medio di una posizione che sta andando in perdita quindi ipotizziamo di comprare a 10 il mercato scende a 8 a 8 decido di comprare ulteriormente in modo tale da limitare il prezzo medio il prezzo medio di carico quindi il grande vantaggio quale potrebbe essere che se siamo long e vediamo al ribasso ci potrebbe consentire di uscire più rapidamente da una posizione in perdita se il prezzo dovesse tornare a salire allo stesso modo mediare al rialzo quando si fa mediare al rialzo quando si fa trading al ribasso quindi quando siamo short e il prezzo continua a salire medieremo un livello di prezzo più alto può aiutare a ridurre le perdite in caso di una risalita del prezzo il rischio grosso qual è? sostanzialmente il rischio grosso è che se il prezzo continua a muoversi nella direzione opposta da quella prevista finiamo con una posizione più grande di quella preventivata quindi finiamo con un position sizing eccessivo non corretto e potenzialmente incappiamo in perdite più significative quindi in alcuni casi in alcuni casi soprattutto come detto prima se fatto se fatto in modo molto molto aggressivo magari anche con con un'emotività sicuramente sbagliata è una strategia molto rischiosa quindi chiaro che se io ho deciso di far trading e su un'operazione decido di mettere 5.000 euro il mercato mi viene contro se devo mediare la posizione devo mettere altri soldi quindi il controvalore totale della posizione quindi in gergo tecnico si dice il position sizing sarà troppo elevato quindi non va assolutamente bene quindi in quel caso è meglio sicuramente prendersi prendersi delle perdite delle piccole perdite ovviamente con degli stop loss che non vadano a bruciare il capitale che ho sul conto in modo tale poi per avere altra liquidità per fare altre operazioni diversamente la costruzione della posizione è quella che abbiamo visto è quella che abbiamo visto che abbiamo visto prima quindi io cosa decido di allocare un certo quantitivo di soldi su una determinata azione individuo dei livelli di prezzo caldi dove entrare e decido di splittare gli ordini in percentuali diversi su livello di prezzo in questo caso ovviamente in questo caso ovviamente magari ci vuole più tempo per costruire la posizione però in questo caso è ovvio che non sono andato a mettere tutto il rischio per l'acquisto sul livello di prezzo ok perfetto quindi poi vediamo facciamo un altro esempio su Stellantis facciamo magari un altro esempio Stellantis l'abbiamo già visto magari prendiamo Nexi prendiamo Nexi anche qua magari togliamo togliamo questi disegni eccoci qua quindi quindi in questo caso vediamo discesa molto importante di Nexi si è appoggiato su questo supporto ieri tra l'altro c'è stata la trimestrale trimestrale super positiva e da lì insomma è partito un importante impulso impulso realzista magari in questo caso facciamoci aiutare delle medie mobili per capire ipotizziamo di essere entrati più o meno long su quest'area di prezzo ovviamente lo stop loss io lo andrei a mettere qua sotto e come take profit magari potremmo andare a prendere sicuramente questo massimo che coincide anche con questa trend line ribassista di medio periodo vediamo se c'è qualche altro input per quanto riguarda le medie mobili quindi mettiamo prima medie mobili a 20 periodi eccola qua cambiamo di colore scusate la mettiamo gialla eccola qua mettiamo un'altra medie mobili a 50 periodi la lasciamo rossa e infine mettiamo una media mobile a 200 periodi mettiamo 200 blu ed eccoci qua quindi sicuramente allora questo potrebbe essere un potenziale target price ma probabilmente il mercato potrebbe trovare resistenza anche in possibilità della media mobile a 200 periodi quindi ipotizzando di essere entrati long più o meno anche sul test della media 20 periodi come primo target price potremmo andare a prendere sicuramente l'incrocio con la media mobile a 200 periodi c'è una domanda di Massimiliano immagino sul mediare la posizione a quel punto lo stop loss dove lo considero già sul livello più basso del secondo ipotetico ingresso puoi fare anche così calcola che c'è la possibilità di mettere sia lo stop loss sull'intera posizione ma anche sul singolo ordine quindi tu le puoi dire tranquillamente al sistema ok mi chiudi 20 pezzi a questo livello di pezzo piuttosto che mi chiudi questi 20 pezzi a un altro livello di prezzo io in quel caso lì però metterei uno stop loss unico alla posizione perché avrò un'idea della cifra massima che sono disposto a perdere ok andiamo volete vedere qualche grafico insieme avete qualche se avete qualche proposta di grafica ditemela pure che facciamo qualche analisi per vedere se c'è qualche opportunità e vediamo insomma magari come inserire gli ordini BPM vediamo MPS Saip Fincantieri allora direi direi di vedere BPM per vedere se c'è qualche opportunità di trading allora prendiamo direttamente non il disegno scusatemi andiamo sul grafico mettiamo BPM Banco BPM eccoci qua quindi partiamo partiamo analisi mensile ok analisi mensile insomma vediamo vediamo insomma che prezzo dopo un'importante discesa insomma sembra 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 sostanzialmente dopo un'importante discesa sul lungo periodo insomma sembra sembra aver trovato forza ora andiamo a vedere magari se c'è qualche livello di prezzo interessante quindi vedo già qua un'area volumetrica molto molto interessante che potrebbe fungere da resistenza quindi cerchiamo di restringere il time frame magari andiamo sul grafico settimanale eccolo qua grafico settimanale vediamo sul grafico settimanale dove siamo importante impulso rialzista io quello che farei qua piuttosto che entrare long subito così io magari metterei dei ritracciamenti di Fibonacci per capire meglio quali potrebbero essere le aree di swing quindi magari andrei sul grafico giornaliero eccoci qua e magari prenderei l'ultimo impulso l'ultimo impulso rialzista possiamo prendere questo impulso possiamo prendere anche questo impulso io magari prenderei questo impulso per vedere dove siamo a livello di Fibonacci ovviamente da qua siamo troppo lontani quindi magari che cosa farei lo metterei qua e vedrai questa operatività ovviamente di breve termine scusatemi che lo ritraccio prendiamo su operatività di breve termine prendiamo da questo minimo a questo massimo ok adesso il mercato è più o meno sull'area 38 compresso tra l'area 38 e 2,50 di Fibonacci potenzialmente una buona area di acquisto potrebbe essere questa quindi in area 5,99 con lo stop qua sotto come primo target price che target price che target price prenderei sicuramente la parte alta di questo box di compressione della volatilità e poi andrei indietro con lo storico dei dati con lo storico del grafico per vedere ulteriori livelli di supporto e di resistenza ora vediamo un altro grafico vediamo Saipen ovviamente è molto importante analizzare i fondamentali dei titoli è molto molto importante analizzare i fondamentali quindi analizziamo la situazione macro generale fondamentali dei titoli poi vediamo se a livello tecnico tramite supporti e resistenze medie mobili oscillatori MACD e quant'altro se ci sono delle opportunità di prendere ora vediamo vediamo un altro titolo vediamo Saipen vediamo Saipen poi possiamo vedere anche un titolo americano in chiusura se volete vediamo Saipen allora partiamo dal grafico mensile eccoci qua vediamo la settimanale eccoci qua sul grafico settimanale vediamo che insomma sembra aver trovato bottom in quest'area di prezzo che erano i minimi del 2022 box di compressione della volatilità lo vediamo qua vedete come il prezzo tende ad accumulare in quest'area di prezzo quindi vediamo come il prezzo insomma quindi inizialmente se riusciamo a individuare bene un box di compressione della volatilità la strategia che si utilizza è vendere la forza quindi vendere la parte alta del box e comprare l'adevolezza poi ovviamente è chiaro che i pattern di compressione della volatilità sono fatti per essere rotti infatti qua per quando entrano i volumi il breakout è molto interessante andiamo sul grafico giornaliero eccolo qua sul grafico a daily magari mettiamo qualche indicatore per vedere a che punto siamo io metterai sicuramente solite mediamobili mettiamola a 20 periodi eccoci qua mettiamo un'altra mediamobile a 50 periodi e mettiamo un'altra mediamobile a 200 periodi e la mettiamo il setup del chart ce l'abbiamo quindi cosa vediamo vediamo che nel momento in cui innanzitutto l'incrocio il crossover delle mediamobili è un segnale razzista molto molto interessante se poi qua magari mettiamo anche un oscillatore possiamo vedere che magari eravamo in una zona magari mettiamo uno stocastico possiamo vedere insomma che eravamo in una zona di per venduto molto molto interessante quindi in questo caso vediamo l'incrocio al rialzo della mediamobile dove vediamo la mediamobile più lenta quindi quella 20 periodi incrocio al rialzo sia quella 50 che quella 200 e adesso che cosa vediamo vediamo che insomma è ritornato all'interno della baby zone quindi se dovessimo impostare un'operazione al rialzo lo posso fare sì la posso fare stop qua vicino stop qua vicino perché come vedete la volatilità si sta restringendo quindi sta formando questa questa sorta sorta di pattern che potrebbe essere anche un triangolo insomma quindi andiamo a definire sostanzialmente eccolo qua e mettiamo qua magari la base del supporto potrebbe essere anche un bel flight per il sista e in questo caso ovviamente il breakout di quest'area con ritest potrebbe essere un importante segnale long è chiaro che magari il trader un pochino più conservativo magari aspetta il breakout di quest'area di prezzo per poi entrare magari sul test delle maniere mobile se siamo più aggressivi e vogliamo anticipare il movimento è chiaro che possiamo posizionarci direttamente long con uno stop qua sotto mi raccomando lo stop loss sempre sempre in macchina invidia ok vediamo invidia invidia ragazzi titolo titolo fantastico vieni metano se è possibile apple invidia allora allora andiamo a vedere magari apple andiamo a vedere invidia poi andiamo a vedere apple allora invidia ragazzi invidia più che altro è la costruzione della posizione perché invidia insomma grafico assolutamente impostato a rialzo ha un po' ha un po' ritracciato ci saranno le trimestrali a breve quindi mi raccomando teniamo un occhio teniamo d'occhio sicuramente le trimestrali quindi andiamo su sul grafico scusatemi apriamo invidia nasdaq eccolo qua perfetto eccoci qua eccoci qua guardiamo guardiamo innanzitutto il mensile di invidia performance incredibile performance assolutamente incredibile vediamo che comunque sul mensile sta formando un pattern di comprensione della volatilità anche in questo caso però vediamo che il mese appena partito quindi insomma con cautela c'è sicuramente da attendere grafico settimanale vediamo insomma top di mercato più o meno in area 979 test più o meno di quest'area di prezzo ritracciamento mercato trova supporto in area 757 da lì riparte e vediamo sul grafico giornaliero insomma come impostare allora come impostare un potenziale entri su invidia ora potenziale entri su invidia anche in questo caso che cosa farei andrei a prendere dei livelli di prezzo sentiti dal mercato che potrebbero essere sicuramente quest'area come vediamo test il mercato riparte test il mercato riparte test il mercato riparte quindi andrei a evidenziare sicuramente quest'area di ingresso quindi quello che è auspicabile che cosa che invidia possa ritestare quest'area di prezzo per poi ripartire col trend col trend realzista ovviamente come primo metterei uno stop molto conservativo per un'operazione veloce metterei uno stop molto conservativo sotto questo sotto questo minimo e come take profit andrei a prendere sicuramente come primo take quest'area di prezzo in area 924 e poi in estensione andrei sicuramente a ricercare i massimi i massimi storici poi ovviamente se faccio intraday questo livello giornaliero poi se faccio intraday per insomma per vedere bene i livelli di prezzo è chiaro che devo restringere il time frame e magari vado e magari vado su livelli di prezzo sicuramente in intraday quindi che mi danno delle occasioni sicuramente con un rapporto rischio e indumento più interessante quando vediamo questi spike così pronunciati cosa sono sono degli assorbimenti sono dei sbilanciamenti quindi il mercato va a riprendere liquidità e poi da lì parte il trend parte il trend è ripartito tutto quindi si è mangiato tutto un movimento a ribasso se vediamo sull'orario se vediamo sull'orario vediamo che sta facendo sostanzialmente dei massimi decrescenti e dei minimi decrescenti quindi quest'area potrebbe essere un'interessante area di acquisto ok vediamo apple ok ok vediamo apple in questo caso e poi terminiamo il webinar quindi prendiamo grafico di apple sul nasdaq eccolo qua iniziamo insomma dopo la trimestrale il programma di bayback monster che ha annunciato apple gli investitori hanno apprezzato insomma tantissimo la notizia insomma infatti c'è stato un gap up assolutamente molto molto importante quindi qua iniziamo sul grafico giornaliero sul grafico giornaliero vediamo se proviamo a tracciare una trend line vediamo che siamo adesso vicini in prossimità di questa trend line quindi la prosecuzione del trend rialzista sarebbe data dalla testa rottura di questa trend line con eventuale stop loss qua sotto chiaramente se mi dici sul long term è chiaro che apple invidia tutte queste aziende sono delle aziende talmente forti che probabilmente nel portafoglio sarebbe una cosa interessante avere almeno una piccola parte allocata se invece dovessimo restringere il time frame magari andiamo sul grafico orario vediamo se c'è qualche opportunità però anche in questo caso ci dobbiamo far aiutare magari dal magari dal macd in questo caso piuttosto che dalla media mobile quindi il macd vediamo che si sta restringendo e da qua ci potrebbe essere un impulso un pulso a rialzo ovviamente mi devo far aiutare anche dalle medie mobile perché più conferme ho ovviamente e meglio è proprio a livello a livello di operatività e per avere anche un edge statistico dalla mia parte grafico a 20 periodi quindi vediamo che quando insomma il mercato in uptrend tante volte che cosa fa la media 20 periodi anche a 10 funge da supporto tante volte poi il mercato va a ritestare questa viene definita la value zone tra le due medie mobile e poi da lì prende direzionalità quindi posso anche aspettare un ritest di quest'area di prezzo ma se dovesse magari costruire una posizione potrei fare una prima entry su questo livello di prezzo e una seconda entry magari sul ritest della media mobile 50 periodi ok perfetto per gli altri titoli magari vedremo in un'altra vedremo in altri webinar sicuramente io direi che per quest'oggi è tutto siete stati come al solito molto coinvolgenti quindi sicuramente vi ringrazio insomma per aver partecipato a questa sessione vi ricordo insomma che nella sezione webinar e corsi online c'è sempre la possibilità di registrarsi i nostri webinar quindi lunedì sarà webinar del mio collega che andrà a fare sicuramente un update della settimana precedente quindi uno sguardo ai mercati perché si muovono quindi come effettuare una review della settimana precedente trovare i migliori e i peggiori della giornata quindi sarà qualcosa di molto interessante vedete insomma che come calendario di webinar sicuramente con Fineco offriamo un fitto calendario di webinar quindi in base a quelli che sono i vostri interessi quindi lato trading investimenti strategie operative sicuramente trovate qualcosa al caso vostro e vi ricordo ancora una volta super evento che avremo il 30 maggio con uno dei top traders mondiali Alexander Helder ovviamente avete sempre la possibilità di iscrivervi io vi ringrazio ancora per l'attenzione vi auguro una buona giornata e buon trading a tutti grazie 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 grazie